Il Friuli Venezia Giulia 2103 positivi, solo 55 in più rispetto a ieri, altri 4 decessi ma scendono ancora le terapie intensive nella casa di riposo carmico, operatori in strutture protette, drive-in per i tamponi ai familiari. Il governatore ha tutto campo nella nostra emittente, numeri positivi perché abbiamo chiuso le scuole per primi, con sindacati e imprese, facciamoci trovare pronti per la fase 2, la sanità del Friuli Venezia Giulia modello per l'Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto tra le misure e l'abolizione della prova di terza media se non si torna a scuola entro il 18 maggio. Mentre i negozi di abbigliamento e calzature sono a rischio chiusura con fatturati azzerati a marzo, i servizi di delivery in controtendenza cercano nuovo personale. La decurtazione è legata alla ripresa o meno del campionato, ora deve pronunciarsi l'asso calciatori. Stasera Udinese Tonight, il direttore generale Franco Collarino. Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. L'avete sentito dai titoli, continuano a calare ulteriormente i numeri dei contagi, dei decessi in Friuli Venezia Giulia, calano anche le terapie intensive. Un quadro dunque che da ancora rassicurazione, ma rimane ancora la situazione davvero complicata per le case di riposo a Paluzza, decise misure straordinarie. Allora facciamo il punto della situazione di quest'oggi nel servizio di apertura a cura di Luciana e Delfonso. Il numero dei positivi giornalieri da Covid-19 registrati nella nostra regione sta diminuendo giorno dopo giorno. Sebbene sia troppo presto per abbassare la guardia, i risultati fanno pensare ad un rallentamento del contagio in Friuli Venezia Giulia. Se sabato le positività accertate in sole 24 ore erano state 107, oggi sono 55, praticamente dimezzate. Nella giornata odierna in Friuli Venezia Giulia i positivi sono comunque 2103, con 4 nuovi decessi che portano a 158 il numero complessivo delle vittime da Covid-19, mentre i guariti sono 273. La provincia più colpita continua ad essere quella di Udine con 793 casi, seguita da Trieste con 708, Pordenone con 477 e Gorizia con 119. Scendono a 46 le persone che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 189. Resta particolarmente delicata la situazione all'interno della casa di riposo Matteo Brunetti di Paluzza. Per cercare di contenere il focolaio scoppiato all'interno della struttura, il sindaco della cittadina e il vice governatore della regione Riccardi hanno messo in campo una strategia che ha come obiettivo, quello della tutela degli ospiti, del personale e delle loro famiglie. Gli operatori, risultati positivi al tampone, sono stati posti in quarantena in una struttura dedicata. Quelli negativi invece sono rimasti in servizio alla casa di riposo ma verranno alloggiati in strutture alberghiere limitrofe. Le famiglie degli operatori e i contatti stretti dei casi positivi sono stati posti in isolamento domiciliare e sottoposti a tampone. Cinque casi di positività collegati al focolaio della casa di riposo di Paluzza registrati anche nel vicino comune di Paolaro, dove fortunatamente i cittadini non manifestano sintomi preoccupanti. Per monitorare la rete dei possibili contagi tra i parenti degli operatori della casa di riposo di Paluzza, infine, nel comune di Tolmezzo, si sono svolti nella mattinata odierna dei tamponi drive-in all'interno delle auto dei convocati con personale specializzato. Infine, una buona notizia che arriva direttamente dal comune di Gemona, dove salgono a tre le persone guarite. È probabile, annuncia il sindaco Revellant, che nei prossimi giorni il numero dei guariti possa aumentare. Perché, di come si sia arrivati a questa situazione con il Friuli Venezia Giulia, tra le migliori in Italia per la gestione dell'emergenza, ce l'ha spiegato il governatore Massimiliano Fedriga, che è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni nell'edizione delle 16. Un Fedriga che ha spaziato a 360 gradi su tutti i fronti di questa emergenza, non solo gli aspetti epidemiologici e sanitari, ma anche quelli economici con la regione che è pronta ad accelerare per la ripartenza, per la cosiddetta fase 2. Allora andiamo ad ascoltare le parole di Fedriga. Proprio perché prima degli altri abbiamo iniziato le misure di contenimento e quindi l'attenzionamento ai contatti sociali e quindi ai contatti interpersonali fra le persone. Io ricordo che noi siamo partiti insieme a Lombardia e Veneto quando in quelle regioni c'erano già contagiati, ma da noi non ce n'era nessuno. E devo dirle con altrettanta schiettezza che se ricordate in quella settimana mi hanno rimproverato da governatore di aver voluto prendere quella misura malgrado non ci fosse nessun contagio. In realtà oggi vediamo che quelle misure iniziate prima stanno servendo e stanno salvando delle vite, stanno salvando delle persone dall'essere contagiato. Stiamo cercando ovviamente di mettere in campo tutte quelle misure che serviranno anche quando inizieranno le riaperture. Perché nell'ultima ordinanza che ho emanato, ovvero quella dell'obbligo di coprirsi naso e bocca all'interno di supermercati, sono quelle misure che sicuramente serviranno quando c'erà l'apertura. Cioè quelle attenzioni con dispositivi di protezione individuale che evidentemente limitano moltissimo le possibilità di contagio. Il Vice Ministro alla Salute Sileri ha dichiarato tra qualche settimana forse sarà possibile cominciare ad uscire. Poche ore fa il Cancelliere austriaco Kurz ha detto che in Austria si è pronti dopo Pasqua a riaprire le prime attività commerciali. Che cosa dobbiamo aspettarci nel nostro Paese? Come sapete la questione delle attività produttive non dipende dalle regioni ma dal governo. L'ultimo decreto ha detto esplicitamente che le nocchie, le ordinanze regionali non possono fare misure di apertura ma solo di maggiore restrizione. Quindi questo tengo a sottolinearlo perché malgrado le sollecitazioni che stanno arrivando in questi giorni tecnicamente la regione non può intervenire direttamente se non sollecitando il governo. Dall'altro lato però noi stiamo cercando insieme a tutta la rappresentanza delle categorie economiche ho avuto proprio una videoconferenza questa mattina di cominciare a dire quando si dovrà riaprire come si dovrà farlo. Le faccio un esempio per essere chiaro. Se devi riaprire una palestra quali precauzioni bisogna prendere? Bisogna dire che può entrare una persona ogni 15-20 metri quadri, che bisogna utilizzare sia o no la mascherina, che bisogna utilizzare sia o no i guanti, che bisogna igienizzare gli attrezzi che si usano, che bisogna andare da soli uno per volta negli spogliatoi. Non lo so, è ovviamente la parte tecnica che deve dircelo, però dobbiamo prepararci, fare un piano che possa funzionare per dare garanzie di salute ai cittadini e dall'altra parte riprendere gradualmente le attività che erano la nostra quotidianità. Mi perdoni questo piccolo sfogo, però mi piacerebbe che anche la comunicazione nazionale e internazionale guardasse con un pochino più attenzione le eccellenze anche sanitarie che ci sono in Frevidenza Giulia, perché per esempio oggi vedevo su un importante sito, dire un importante giornale, dove c'è il video dell'ozonoterapia fatta a Roma quando abbiamo iniziato prima noi a Udine a portarla avanti, o come il test, vedo altre regioni che dicono, incominciamo a sperimentare il test, noi lo facciamo già da diversi giorni e il Frevidenza Giulia purtroppo a livello nazionale non danno l'attenzione dovuta, non è che interessa a me perché poi non è un mio merito, ma perlomeno ai nostri professionisti che tanto si impegnano è giusto anche riconoscere la capacità enorme che stanno avendo, non aiutando soltanto la nostra regione ma tutta Italia e tutta Europa. Per quanto riguarda le case di riposo invece tengo a sottolineare che purtroppo è un problema che ha colpito tutta Italia, anzi forse in maniera minore noi rispetto ad altri territori. Sono luoghi estremamente fragili, con persone ovviamente molto in laco l'età e con magari più di patologie e quindi chiaramente sono particolarmente delicate. Noi abbiamo iniziato già con diversi protocolli e misure di contenimento anche all'interno della casa di riposo del virus, spostando il personale sanitario all'interno della casa di riposo, così da garantire tutte le cure possibili alle persone ma dall'altro lato non rischiare che si spostasse fuori dalla casa di riposo e si portasse fuori dalla casa di riposo il virus. Tanti gli argomenti affrontati da Fedriga, potrete rivedere integralmente l'intervista anche sul nostro canale YouTube. Tra gli argomenti avete ascoltato il tema delle riaperture, ad intervenire quest'oggi anche la Presidente degli Industriali Fruani, Anna Mareschi Danieli, che dice noi non siamo per una liberi tutti, ma siamo per una riapertura graduale di quelle imprese che possono garantire il rispetto di tutte le norme anticontagio. Chi può farlo, dice Mareschi Danieli, va davanti. A chi invece avrà bisogno di aiuto per applicare questo protocollo daremo il massimo supporto possibile e solo allora potrà procedere con la riapertura. Fedriga ha citato anche la sanità frulana, l'eccellenza con questa sperimentazione dell'ozonoterapia. Ne abbiamo parlato più volte in questi giorni con il dottor Curcio, con il dottor Tirelli, e ora andiamo a proporvi anche il commento del dottor Tascini, primario della clinica di infettivologia dell'ospedale di Unè, che ci racconta proprio i dettagli di questa sperimentazione. Ma guardi, abbiamo trattato paziente con polmonite da Covid con l'ozonoterapia endovena, che è una terapia, se vuole, sperimentale per questi pazienti, con buoni risultati, nel senso che dei 36 pazienti che abbiamo trattato in malattie infettive, grazie all'aiuto degli anestesisti e rianimatori coordinati dal dottor Amato De Monte, sono andati bene, nel senso che solo uno è stato intubato e la sua intubazione è anche poi durata poco. Ovviamente questi sono dei dati preliminari, vogliono dire poco. Noi stiamo aspettando, ormai da alcuni giorni, di avere risposta alla sottomissione, un protocollo di ricerca prospettico randomizzato, che ci possa dire se effettivamente questa terapia poi è efficace e che gli effetti che abbiamo visto finora non siano dovuti al caso. Le risposte dovranno arrivare dall'AIFA, a che tempi vi aspettate? No, noi ci aspettiamo dei tempi rapidi. Adesso, dato che l'ozono terapia non è effettivamente un farmaco, bisogna dire che l'ozono viene prodotto con una macchina, quindi non è costoso, non è brevettabile e quindi non è stato mai preso in considerazione in passato per studi randomizzati. E quindi è più difficile approvare la sperimentazione, ma speriamo a presto di avere dei risultati. Ci sono altre sperimentazioni in atto attraverso farmaci? Ma noi diciamo che partecipiamo a progetti in ricerca che sono in partenza adesso o che sono già in atto, che sono quelli sull'anti-L6, che è un farmaco monoclonale che si chiama tocilizumab. Abbiamo provato in modo sperimentale i rendesivir, partecipiamo a studi, abbiamo dato l'assenza a partecipare a studi del WHO e abbiamo anche studi interni su molecole che hanno un effetto o anti-infiammatorio o anti-virale, anche se adesso verranno sottoposte all'AIFA. Dottore, dal suo punto d'osservazione alla luce anche dei dati che si stanno registrando a livello regionale e nazionale con questa curva che è in fase discendente, ecco, tra quanto arriverà questa attesa fase 2 secondo lei? No, non mi sbilancio su questo. Non mi sbilancio perché tutti quelli che fanno previsioni sul Covid le hanno sbagliate tutte. Quindi, no, dico, si sta notando una netta riduzione dei numeri dei positivi e dei ricoveri. Questo è vero. Quindi, però, essendo un'epidemia nuova, un virus nuovo, bisogna aspettare. Ci siamo resi conto che può dare dei cluster familiari e dare dei cluster nelle comunità chiuse. Quindi, noi dobbiamo stare molto attenti a questo, cioè ad evitare la diffusione all'interno di comunità chiuse e delle comunità familiari e di lavoro. E a proposito dei dati aggiornati ad oggi, andiamo ad ascoltare le parole del capo della protezione civile Borrelli. Partiamo con i dati di oggi. Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 93.187, con un incremento rispetto a ieri di 1.941 pazienti. Di questi, 3.898 sono in terapia intensiva. Quello che voglio evidenziare è che per il terzo giorno consecutivo il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è negativo, quindi un alleggerimento di 79 pazienti dalla terapia intensiva. Il numero dei ricoverati è 28.976, sono quelli che sono ricoverati con sintomi, mentre la maggior parte dei pazienti, 60.313, pari al 65% del totale, sono in isolamento domiciliare senza sintomi e con sintomi lievi. Purtroppo anche questa sera dobbiamo dare il numero dei deceduti, sono 636 nuovi deceduti. Il totale dei guariti invece è di 22.837 unità, rispetto a ieri sera sono 1022 le persone che sono guarite. Ed oggi era in programma anche il Consiglio dei Ministri che doveva varare le nuove misure in favore delle imprese e delle famiglie. Dopo la sospensione avvenuta all'ora di pranzo, il Consiglio è ricominciato ed è atteso nelle prossime ore il via libera definitivo. C'è stata l'intesa sul pacchetto liquidità alle imprese in grado di mobilitare risorse per oltre 750 miliardi di euro, oltre 400 in più rispetto ai 350 già previsti nel Cura Italia secondo fonti del MEF che spiegano che si liberano così 200 miliardi per la liquidità delle imprese e altri 200 per il sostegno dell'export. Nel decreto sulla liquidità, rendono noto fonti del Ministero, si mobilitano 200 miliardi di prestiti con garanzie fino al 90% per tutte le imprese senza limiti di fatturato. Oggi è arrivato anche l'ok al decreto scuola con tutte le novità per il prossimo anno scolastico e per la fine di questo. Due le ipotesi per la maturità e altrettante per gli esami di terza media seconda che si torni in classe il 18 maggio o non si torni affatto fino a settembre. L'emergenza Covid-19 sta colpendo ormai da diverse settimane il mondo della scuola con ragazzi costretti a studiare da casa e in attesa di comprendere cosa li attenda per il futuro. Il Consiglio dei Ministri ha così valutato diverse ipotesi e dato il via a un nuovo decreto scuola che prevede al suo interno tutte le misure necessarie per poter concludere l'anno scolastico in corso. Da quanto sia preso nel caso in cui l'attività didattica non riprenda entro il 18 maggio o che per ragioni sanitarie non possano svolgersi in classe gli esami quello di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione ossia delle scuole medie verrà sostituito con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe che terrà conto anche di un elaborato del candidato. La data spartiacque resta quella del 18 maggio anche per gli esami di maturità nel caso in cui si tornasse in classe entro questa data l'esame resterebbe nella forma attuale rivisto solo parzialmente con la prova di italiano da affrontare il 17 giugno mentre la seconda prova scritta sarà predisposta dalla singola commissione in base alle attività didattiche svolte dagli studenti durante l'anno. Nel caso in cui non fosse possibile questa soluzione i maturandi salteranno sia lo scritto di italiano che la seconda prova e la valutazione finale avverrà solo tramite un esame orale. Tutti gli altri alunni saranno ammessi all'anno successivo anche quelli con l'insufficienza ma non ci sarà nessun sei politico i ragazzi saranno valutati con voti finali corrispondenti all'impegno dimostrato durante l'anno e nella didattica a distanza con possibilità di svolgere corsi di recupero. Via Libera intanto, sempre dal Consiglio dei Ministri alle assunzioni di docenti per recuperare parte dei posti liberati nell'estate del 2019 da quota 100. Si tratta di 4.500 posti che andranno ad altrettanti insegnanti, vincitori di concorso o presenti nelle graduatorie ad esaurimento che non hanno potuto occupare questi posti lo scorso settembre perché non erano stati messi a disposizione. Ed ora andiamo a dare uno sguardo a che cosa accade nel mondo in queste settimane e vi stiamo portando ai nostri microfoni la voce dei tanti friulani che stanno vivendo la stessa nostra emergenza in diverse nazioni. Stasera andiamo a San Diego in California e diamo il bentrovata ad Elisa Meazzini collega giornalista del Friuli Venezia Giulia che vive negli Stati Uniti da diversi anni. Buonasera o meglio buongiorno. Buonasera, buongiorno Davide buonasera agli ascoltatori è un piacere essere con voi sì, la situazione qui in California è diciamo particolare perché come ben sapete questo stato è comunque tra quelli che annoverano il maggior numero di casi di coronavirus negli Stati Uniti ma allo stesso tempo la California vive una situazione particolare ad esempio io sono a San Diego come dicevi tu San Diego è una città piuttosto defilata considerando che le zone calde sono quelle di Los Angeles della Baia di San Francisco che come sai era stato il primo punto caldo infatti a San Diego in questo momento i numeri sono ancora tutto sommato contenuti rispetto appunto alle altre aree quello che invece è interessante è capire quello che succederà questa settimana che è stata definita appunto dal presidente Trump la settimana decisiva questa è la prossima ancora è previsto un ulteriore aumento nel numero dei contagi ovviamente gli occhi sono soprattutto puntati su New York le immagini che voi appunto state trasmettendo le immagini che in generale si vedono nei telegiornali in questi giorni fanno riferimento a New York e come sapete conta praticamente oltre la insomma il terzo di tutti i contagi nell'intero paese la situazione di New York è davvero tragica qui diciamo in California la situazione è diversa anche per rispetto non solo a New York ma anche rispetto all'Europa perché la California ad esempio che è sottoposta lo ricordo da un paio di settimane comunque ad un'ordinanza di obbligo di restare a casa è un obbligo comunque diverso rispetto a quello che state vivendo voi in Italia cioè qua c'è comunque il permesso ad uscire per svolgere normali commissioni per svolgere comunque sia per poter andare a fare la spesa addirittura nell'ordinanza iniziale c'era scritto che è consentito uscire per fare un minimo di esercizio fisico all'aria aperta non c'è quindi la polizia che ti ferma per strada o che comunque ti chiede se hai un permesso a circolare quello che è assolutamente chiuso per esempio sono tutte le aree verdi le spiagge qua a San Diego siamo appunto sul mare ma buona parte della città si affaccia anche su una baia quindi è impossibile raggiungere questo tipo di zone pubbliche e qualora qualcuno riesca a farlo viene comunque multato in quel caso sono chiusi i ristoranti, sono chiusi i negozi, i centri commerciali quindi occasioni di assembramento vera e propria non ce ne sono la California rispetto a New York e rispetto all'Italia è molto spalmata sul territorio come immagino sappiate qua per esempio il trasporto pubblico non funziona o comunque sia non funziona allo stesso modo in cui lo vediamo a New York con le metropolitane affollate qui i mezzi pubblici pubblici vengono praticamente quasi ignorati qua ognuno guida la propria auto per cui diciamo che le metodologie di contagio sono anche diverse appunto città più spalmate, più spazio vitale molte persone ripeto continuano ad uscire però continuano anche per fortuna a rispettare l'obbligo di distanziamento sociale quindi devo dire che nonostante si veda ovviamente un calo nelle presenze delle persone per strada le persone che sono fuori insomma sono diverse tutte però piuttosto rispettose di questi ordini di mantenere la distanza come siamo con le mascherine invece? sono introvabili anche lì? e quello è un punto drammatico anche qui in realtà perché già da settimana ormai le mascherine sono esaurite nelle farmacie, nei supermercati insomma nei grandi negozi di grande distribuzione quindi c'è stata una corsa iniziale e chi è stato insomma accorto è riuscito ad accaparrarsene all'inizio però è da tempo ormai che non si riescono a trovare mascherine come sapete qualche giorno fa il Presidente Trump ha anche annunciato che c'è l'invito ad indossarle ma non c'è l'obbligo sono facoltative lui stesso ha detto io non le indosserò le persone hanno iniziato comunque ad indossarle quando vanno fuori soprattutto quando vanno al supermercato e c'è comunque qua come dire l'ordine è quello di dare nel momento in cui ci sarà un nuovo approvvigionamento di mascherine ovviamente la precedenza verrà data agli operatori sanitari ai medici agli infermieri e quindi qua per esempio si sta promuovendo molto il fai da te il crearsi la propria mascherina con semplici insomma materiali a disposizione mascherine, guanti materiale disinfettante sono diciamo sono introvabili ormai da settimane e questa è un po' ecco la situazione un'altra cosa che volevo dire per esempio si un ultimo flash ti chiediamo come viene vista l'Italia dagli Stati Uniti che considerazione si ha della gestione del nostro paese di questa emergenza ma allora innanzitutto voglio fare la premessa innanzitutto c'è io ho notato personalmente una grande anche se vogliamo una grande partecipazione per quello che sta succedendo in Italia e quindi anche forme di solidarietà da parte delle persone comuni persone normali che chiedono come va la situazione in Italia la tua famiglia le vostre famiglie insomma quindi la gente qua è molto attenta a quello che sta succedendo in Italia la maggior parte delle persone sembra anche preoccuparsi vedendo l'esempio italiano l'esempio spagnolo stanno aspettando quasi no? l'arrivo del peggio qua come appunto si suppone o comunque come gli esperti hanno prospettato altra parte della popolazione continua anche un po' sottovalutare invece d'altra parte quello che sta succedendo da noi e viene detto ma alla fin fine in Italia insomma la media della popolazione è piuttosto alta rispetto agli Stati Uniti e quindi diciamo è un po' contrastante la visione dovrei dire che in base alla mia esperienza personale c'è stata comunque una forma di attenzione anche di esempio da parte dell'Italia del modello positivo dell'Italia che è una cosa che viene ribadita tra l'altro al di là della gente comune dagli esperti gli esperti che stanno lavorando a fianco del presidente Trump in questo momento stanno portando più e più volte l'Italia come esempio di gestione dell'emergenza e questo ci fa molto piacere ti ringraziamo davvero per questo spaccato sulla situazione negli States da San Diego grazie Elisa Mazzini grazie a te Davide e grazie a tutti buonasera noi ritorniamo in regione ritorniamo a parlare dei controlli delle forze dell'ordine perché continuano le sanzioni in tutto il territorio tra l'altro forze dell'ordine carabinieri in particolare che hanno trovato un accordo con poste italiane e consegneranno loro per gli ultra 75 anni la pensione in casa per evitare appunto che escano dal proprio domicilio per recarsi in posta ma andiamo a fare il punto dei dati aggiornati ad oggi sui controlli con Luciani Delfonso l'emergenza Covid-19 continua a tanagliare il paese ma nonostante questo troppe persone non hanno ancora compreso l'importanza di restare a casa e così complice il bel tempo nella giornata di ieri le sanzioni per chi non ha rispettato le ordinanze uscendo di casa senza un valido motivo sono aumentate sabato erano state 164 a fronte di oltre 3000 controlli ieri domenica delle palme su 2096 verifiche fatte in regione sono state multate 233 persone a questi numeri comunicati dalla prefettura di trieste si aggiunge una denuncia per falso e un mancato rispetto della quarantena mentre si conferma il trend positivo delle attività commerciali a fronte di 882 verifiche nessuno è stato sanzionato i controlli per l'emergenza sanitaria hanno permesso alla polizia di frontiera di trieste di scoprire celati dentro un portabagaglio di un'auto bulgara tre cuccioli di cane di appena quattro mesi di razza spitz con chip illegibili e passaporti falsi il conducente della vettura un 29enne cittadino bulgaro è stato sanzionato per l'introduzione in le cittadini animali da compagnia il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo sempre nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Udine sono intervenuti nella chiesa di San Vito di Fagagna nella quale tra fedeli stavano assistendo alla messa nonostante i divieti previsti in materia di contenimento da covid-19 il sacerdote e tre fedeli sono stati sanzionati e il fatto è stato segnalato alla prefettura di Udine complice qualche bicchiere di troppo e forse una lunga convivenza imposta dall'emergenza sanitaria in una casa di Sedegliano nella tarda serata di sabato è scaturita un'accesa discussione tra fratello e sorella l'uomo 68enne durante il dissidio particolarmente acceso ha minacciato di morte la donna 61enne all'interno dell'abitazione i carabinieri hanno rinvenuto anche armi e munizioni regolarmente detenute ma anche un fucile da caccia mai denunciato visto l'accaduto il materiale è stato sequestrato l'uomo è stato denunciato e i militari dell'arma di Codroipo procederanno con la richiesta di revoca della licenza del porto d'armi torniamo sui temi economici perché arrivano dati preoccupanti dal settore abbigliamento e scarpe con in Friuli Venezia Giulia 2.500 aziende e 6.000 addetti a rischio Federmoda Confcommercio lancia all'allarme una situazione insostenibile è necessario programmare la fase 2 con il centro studi che analizza la situazione per quanto riguarda le province di Udine e Pordenone dopo un inverno difficile l'emergenza economica Nato ci costringerà a vedere passare da casa oltre all'inizio della primavera anche Pasqua e probabilmente i successivi ponti parliamo tra l'altro di aziende che fanno ordine con un anticipo di 6-9 mesi e dunque ci ritroviamo in negozi pieni di merce che non riusciremo a vendere perché al momento della riapertura sarà già fuori stagione il peso dell'invenduto andrà ripartito sull'intera filiera ma sarà comunque un autentico bagno di sangue ci sono invece notizie positive sul fronte delivery le consegne a domicilio da parte dei ristoranti che in alcuni casi come in questa storia che vi andiamo a raccontare sta portando anche a nuove assunzioni dall'apertura del nostro locale ci siamo trovati subito ad affrontare questa emergenza che ha colpito chiaramente tutti i settori in particolare il settore della ristorazione e del turismo però questo problema ha fatto sì che abbiamo implementato le nostre consegne a domicilio settore dove già eravamo molto attivi però questo ha fatto sì che appunto le consegne a domicilio diventassero sempre maggiori sempre maggiori c'è una stima di quanto è incrementato il vostro lavoro in tal senso? questa situazione chiaramente ha creato un 30% in più portando appunto il nostro lavoro a fare almeno 100 consegne al giorno c'è un'ottima notizia che vi riguarda perché in controtendenza rispetto alle difficoltà anche nel mondo del lavoro voi avete assunto in questo periodo esatto proprio due settimane fa abbiamo fatto la nostra prima assunzione proprio perché la molle di lavoro è sempre cresciuta di più facendo anche un grandissimo lavoro chiaramente con tutti i nostri social Instagram, Facebook, Youtube dove cerchiamo di stare vicini anche alla persona facendo dei tutorial facendo informazione anche su tutta quella che è la parte della ristorazione giapponese questo ha fatto sì che la domanda crescesse continuamente per le consegne a domicilio e ha fatto sì che si liberassero si aggiungessero dei posti di lavoro e voglio ricordare appunto che abbiamo assunto una persona e non abbiamo assolutamente mandato in cassa di integrazione nessuno dei nostri dieci dipendenti anzi gli abbiamo anche dato un premio per il mese di marzo di 200 euro in busta avete la ricerca ad ulteriori profili? Sì adesso abbiamo aperta ancora una posizione appunto di consegna a domicilio e di gestione degli ordini e quindi se ci fosse qualcuno all'ascolto che è interessato ci sono già arrivati moltissime email riguardo a questo argomento stiamo iniziando a selezionare sarà una Pasqua anche all'insegna del giapponese quest'anno? Allora sì molti clienti mi hanno già chiesto appunto perché per cambiare perché la solita grigliata fuori all'aperto con gli amici purtroppo non si potrà fare quindi si farà la Pasqua e Pasquetta a casa ognuno si sta organizzando per il meglio Lo sport ora è stato raggiunto l'accordo in Lega tra i club di Serie A sul taglio degli stipendi gli ingaggi annuali dei calciatori saranno ridotti di un sesto o di un terzo a seconda se la stagione potrà ripartire o meno se sarà possibile dunque tornare in campo ospeterà ora le singole società trovare l'intesa con i rispettivi giocatori Lorenzo Pausa l'accordo sul taglio degli stipendi è raggiunto la fumata bianca arriva al termine dell'assemblea odierna tra Lega e tutti i club della Serie A con la decisione unanime di sospendere le mensilità da marzo a giugno nel caso in cui la stagione non riprenda più solo quelle di marzo e aprile se invece si riuscisse a tornare in campo si parla quindi di una riduzione di un terzo o di un sesto dei monti ingaggi annui percentuali in cui sono compresi anche gli eventuali bonus un primo passo avanti concreto nella definizione di un futuro ancora incerto a causa dell'emergenza sanitaria in atto la Lega continuerà a seguire lo sviluppo della situazione in stretto contatto con UEFA FIGC e Associazione dei club europei e conferma la volontà di tornare a giocare terminando la stagione solo quando non ci saranno più rischi di contagio e ci sarà il via libera da parte del governo stesso discorso vale per la ripresa degli allenamenti al momento bloccati fino al 13 aprile e per i quali si attendono le disposizioni del prossimo decreto governativo fissato per venerdì intanto un incontro tra i vertici leghe FIGC sul tema delle precauzioni mediche da mettere in atto nel momento in cui saranno possibili i primi mini raduni e da lì scaturirà il protocollo sanitario da seguire in questo contesto il presidente della federazione dei medici sportivi casasco ha reso nota la possibilità di effettuare sui giocatori dei test ematici in arrivo dagli Stati Uniti che potranno facilitare il riscontro di eventuali positività al covid-19 non è tardata ad arrivare la risposta dell'asso calciatori come leggiamo dal sito della gazzetta dello sport poco fa la dichiarazione di Damiano Tommasi presidente dell'asso calciatori questa è una proposta vergognosa e irricevibile è chiara l'indicazione che si vuol far pagare solo ai calciatori gli eventuali danni della crisi l'unica parte rilevante del comunicato della Lega è l'inciso con cui si dice che le squadre dovranno negoziare le modifiche contrattuali con i singoli giocatori queste le parole di Damiano Tommasi sarà sicuramente uno dei temi che verrà affrontato stasera Udinese Tonight con Giorgia Bortolossi a partire dall'ore 21 ospiti d'eccezione il direttore generale dell'udinese calcio Franco Collavino e il professor Brignardello appuntamento dunque alle ore 21 a seguire invece in seconda serata dalle 22 per gli speciali del nostro TG Francesco Pezzella parlerà degli effetti collaterali del coronavirus con tra i tanti protagonisti anche il direttore del giornale Alessandro Sallusti grazie a tutti per essere stati con noi e l'informazione poi ritornerà con tutti gli ultimi aggiornamenti di giornata alle 22.30 buona serata Grazie a tutti